E viene dunque inserito fra i cattivi, cartellino giallo per lui. Speriamo per lui che il suo nome non compaia due volte, altrimenti fuori. Ci sono metri a disposizione. Prova a calciare, una parata incredibile. Frettissimo dal dischetto. È una trasformazione impeccabile. Pala che finisce in rete. I rigori sono sempre una sfida di nervi tra chi calcia e il portiere. E stavolta. Non ci sono dubbi qui, ammunizione. Ci sta tutta, ci sta tutta. No. 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 Un penalti perfetto. E viene dunque ammorito. La decisione dell'arbitro non sopprende nessuno. Evidente.